Previsioni meteo per venerdì 29 maggio. Al nord si rinnovano condizioni di tempo stabile e soleggiato, specie sulla Valpadana, dove i cieli si manterranno in genere poco nuvolosi. Al centro l'alta pressione si consolida ulteriormente e favorisce una giornata con tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Al sud si esauriscono le ultime note instabili, anche sul meridione attesa una bella giornata di sole ovunque con cieli in prevalenza sereni. Venti deboli da nord-ovest con ultimi rinforzi sullo ionio. Mari poco mossi. Temperature in aumento.